Questo workshop, il primo workshop sulle metodologie per le statistiche ufficiali, l'abbiamo voluto organizzare quest'anno come evento di chiusura del triennio di attività di una delle infrastrutture per la ricerca che abbiamo in istituto, cioè il Comitato Consultivo per le Metodologie Statistiche. È un comitato che si occupa del tutoraggio e del monitoraggio dei progetti di ricerca metodologica strategici per l'istituto, strategici nel senso che nell'ambito del piano triennale per la ricerca dell'istituto sono state definite delle aree prioritarie di investimento nell'ambito delle quali poi, come direzione metodologica insieme alle direzioni di produzione, portiamo avanti dei progetti di innovazione e di ricerca metodologica che si affiancano ai progetti di ricerca tematica per garantire, ovviamente, una maggiore efficienza dei processi di produzione statistica. Quindi parliamo dei censimenti permanenti, parliamo del sistema integrato dei registri, parliamo dell'uso delle nuove fonti Big Data e delle Trusted Smart Statistics, parliamo della standardizzazione dei metodi e dei processi. Un workshop che si sta rivelando molto interessante e molto utile anche per gli scambi che ci sta consentendo di mantenere e di pianificare con il mondo esterno all'istat, il mondo accademico, gli altri istituti nazionali di statistica e Eurostat. È una prima occasione che sicuramente ripeteremo negli anni prossimi e che naturalmente consideriamo importante per l'istat che è un istituto pubblico di produzione di statistiche ufficiali ma anche un ente pubblico di ricerca.